Sì, noi intanto se lo fanno altrove siamo contenti, insomma, nel senso che se dovesse essere realizzato qua noi abbiamo chiesto che prima di tutto la tutela della salute, la compatibilità, la sostenibilità ambientale, abbiamo chiesto per primi la valutazione dell'impatto ambientale, il via, e ci sarà tempo perché saranno almeno un paio di mesi per una discussione approfondita dove tutte le istituzioni possono dire da loro e ovviamente non si faranno cose nella maniera più assoluta a Vallefoglia che non tutelano la salute, l'ambiente, il paesaggio e la sostenibilità dello sviluppo di questo territorio. Chiunque sia fanno cose nelle norme di legge e che tutelano la salute e l'ambiente. Anche un messaggio per i cittadini, quelli un po' più preoccupati. Le preoccupazioni sono giuste nel senso che qualsiasi attività, da noi sono molte le aziende che potenziano le loro attività, è chiaro che aumentano i posti di lavoro, ma aumentano anche le macchine, aumentano i camion, aumenta l'inquinamento atmosferico. Non è un caso che noi facciamo, abbiamo già approvato una convenzione con l'Università di Urbino per la tutela e il controllo della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua e della qualità anche dei cibi che vanno sui nostri tavoli, perché anche quelli significa mangiare bene, tutelare la salute e evitare inquinamenti.